Giovedì 31 agosto a partire dalle 18 appuntamento allo stadio Nero e Rocco per la presentazione ufficiale della prima squadra della primavera e la squadra femminile, una serata in cui i tifosi avranno modo di conoscere i giocatori e le giocatrici che rappresenteranno i colori rossolabardati. L'evento sarà condotto da Giulia e Silvia Provvedi in arte le Donatella con la partecipazione della giovane attrice Alice Allicarollo inviata nel backstage. Ospite musicale il gruppo The Il Pagante formato da Roberta Branchini ed Edoardo Cremona, non mancherà l'aspetto enogastronomico con appositi food truck ed anche durante la serata sarà possibile abbonarsi alla stagione sportiva dell'Unione. presente tutta la nuova società capitanata dal presidente Simone Giacomini. Inutile nascondersi, questi tre mesi abbiamo lavorato senza sosta per rimettere in piedi una piazza e una struttura che meritano palcoscenici importanti e chissà che in chiusura di calciomercato, aggiunge il presidente, non arrivi anche la ciliegina sulla torta da parte del nostro direttore generale Giancarlo Romairone.